buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video oggi in realtà io volevo fare una cosa tipo mega giga unboxing con un sacco di pacchi ma l'universo contro di me l'universo è contro questa mia idea e quindi io vabbè lo accetto lo accetto ok va bene praticamente dovevano arrivarmi un po di pacchi tutti insieme e quindi ah che figo dai è un bel unboxing sostanzioso che è da una vita che non faccio un video unboxing con tanti pacchi diversi invece nada raga vi beccate un solo pacco perché questo abbiamo questo è arrivato e quindi che ci dobbiamo faccia adeguiamo signori miei però c'è comunque una cosa molto carina perché qui di fianco a me state vedendo un calendario dell'avvento in realtà io ho già preso un calendario dell'avvento tipo un botto di mesi fa penso di averlo preso a settembre e sarà un calendario dell'avvento non di cibo perché tutti i miei calendari dell'avvento generalmente sono solo cibo e poi ne prendo uno che invece è un po così spiziosello con delle cazzatine non vi svelo ancora di che calendario si tratta però vi do uno sport spoiler che è di un personaggio che a me piace molto non dico altro non dico altro con mia grande gioia mi è arrivato il calendario dell'avvento di coro mamma mia e a parte che è pazzesco bellissimo cioè sta grafica mi fa veramente volare non so neanche se ci sta nell'inquadratura e amo tantissimo il fatto che ci sia un topino lo vedete il topino si vede quanto è carino bello 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 ovviamente questo qui non lo andremo ad aprire adesso spoilerandoci tutto quanto che stiamo ancora a novembre no 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 perché io sono fedele all'apertura classica dei calendari dell'avvento se io prendo un calendario dell'avvento aprirò casella per casella giorno per giorno io starò di prendere i calendari e aprirli tutti subito cioè non fa per me non fa per me raga cioè capisco i miei colleghi e le colleghe che lo devono fare per sponsorizzare quella cosa però per quanto mi riguarda mai 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 no è troppo bello per me ogni giorno dicembre svegliarmi aprire una casellina nel calendario dell'avvento cioè proprio troppo bello mi rende proprio felice e mi sa tanto di natale quindi questo ovviamente lo apriremo insieme ma dal primo dicembre ogni giorno ovviamente farò come tutti gli anni uno short un reel un tiktok dove apriremo la casellina di ogni calendario che avrò saranno in totale tre due io già uno mi deve arrivare quindi siamo qui per fare cosa se io il calendario non lo apro per aprire il pacco di coro che mi è arrivato che raga c'è pesa un botto vi giuro c'è tipo pesa una tonnellata non riesco neanche a alzarlo andiamo ad aprirlo così vediamo cos'è che sta facendo pesare così tanto sto pacco e io sono mega ipata perché qui dentro c'è un prodotto che mi incuriosisce tantissimo mi incuriosisce ma al suo tempo non lo so un po' paura ok comunque appena lo tiro fuori vi spiego vi racconto e magari qualcuno di voi l'ha anche già provato e saprà dirmi come non riusciamo ad aprirlo dannazione bene 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 togliamo tutto l'imballaggio che non ci interessa via per favore e vediamo un po' che cosa troviamo già 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 ho preso questo pane è un pane senza glutine non perché io abbia problemi col glutine assolutamente no ma perché mi ispirano sempre molto questi pani così in cassetta già tagliati in generale mi piacciono molto quando li trovo li provo quindi questo c'era su coro era senza glutine e io l'ho preso a prescindere ve la do come informazione perché qualcuno potrebbe effettivamente servire il fatto che sia senza glutine è un pane fatto con la farina d'avena ovviamente essendo senza glutine non ci poteva essere la farina classica sembra bello morbidino è bello tipo un po' umidiccio diciamo sono molto curiosa di provarlo e secondo me sarà più buono comunque tostato piuttosto che mangiato così lo proverò magari a colazione con qualche burro di frutta secca marmellatine cose così beh iniziamo bene credo fosse tra le novità tra l'altro perché non l'avevo mai visto poi cos'altro abbiamo oh sì sono tornate dopo un sacco di tempo in realtà perché non le ordinavo da un botto da una vita sono tornate loro che sono le albicocche ricoperte di cioccolato raga io veramente penso di avervi fatto una testa così con queste albicocche ricoperte di cioccolato ma vi giuro se le provate vi innamorate cioè vi innamorate totalmente sono mega mega buone e sono in assoluto tra le cose più buone tra quelle ricoperte di cioccolato di coro ce ne sono alcune gigantesche tra l'altro me le ricordavo più piccole ed è una roba semplicissima cioè albicocca essiccata ricoperte di cioccolato fine però che vi devo dire ed era forse un anno che non le ordinavo perché avevo un po' esagerato ecco non ne potevo più adesso mi è tornata la voglia molto bene poi abbiamo oh dimmi che sei tu dimmi che sei tu eh sì 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 la marmellata di lamponi è tra le cose più buone di coro cioè sapete che io con coro comunque tendo un po' andare sempre sulle stesse cose perché ci sono dei prodotti che sono talmente buoni e diventano talmente le mie cose preferite che io non riesco a non fare un ordine senza quelle cose che capite cosa intendo quindi marmellata di lamponi penso di avervela consigliata 600.000 volte mega mega buona e infatti anche Gabriele ha amata alla follia e quando l'abbiamo finita mi ha detto ti prego ordina di nuovo è troppo buona eccola qui così andiamo anche a provarla con il pane di prima cos'altro abbiamo oh questo qui che è il seitan in realtà lo chiama tipo bistecca di seitan non sa di bistecca assolutamente ma non sa neanche di seitan classico non so bene come descrivervelo sinceramente inizialmente non mi faceva impazzire mi ricordo che la prima volta che l'ho provato ero tipo ok va bene adesso boh basta non posso vivere senza cioè sia in versione classica che in versione mediterranea questa è la versione mediterranea e infatti si vede perché ha tipo tutto questo oglietto un po' rossiccio arancionino non so se si vede il gusto non cambia tantissimo uno dall'altro eh sinceramente sono abbastanza simili però raga a me piace un botto sapete come fettine abbastanza fili rosolate in padella proprio senza niente giusto un pochino di olio diventano un pochino croccantine rimanendo però un po morbide all'interno e messe tipo nelle piadine stile kebab cioè spaccano spaccano super consigliato buono 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 poi abbiamo vabbè vi faccio delle cose noiose che probabilmente è anche ciò che ha dato un po' di peso perché sono tutti barattoli vasetti cose ecco perché pesava così tanto allora togliamoci queste cose un po' noiose così lasciamo le cose più interessanti per ultimo fagioli borlotti non c'è molto da dire nulla di entusiasmante cioè oddio fagioli borlotti a me entusiasmano molto però immagino che per voi non sia nulla di che fagioli fine poi quali altri legumi ho preso fagioli borlotti di nuovo ok ma vedo altri barattoli di fagioli borlotti ma non lo so cosa cosa mi è successo durante quest'ordine volevo solo fagioli borlotti evidentemente a questo punto penso che anche questi qua saranno fagioli borlotti raga niente sono riuscita a prendere quattro confezioni di fagioli borlotti non so come spiegarvelo sinceramente non so come giustificarmi sì certo sono forse i miei legumi preferiti oddio combattono forte con le lenticchie però ultimamente direi che sì preferisco i fagioli e per la precisazione fagioli borlotti una volta i miei preferiti erano quelli rossi però adesso li trovo un po troppo dolcini non lo so mi hanno un po stufata quindi andiamo sui borlotti poi cosa abbiamo qua in questo vasettume diciamo che è un ordine molto proteico sicuramente la gente non si deve preoccupare che io in quanto vegana non assumo abbastanza proteine perché abbiamo dell'altro seitan però questo raga è molto particolare cioè non so come spiegarvelo allora è un seitan più seitan rispetto al seitan di prima quindi come consistenza sapore eccetera eccetera però è fatto veramente bene cioè non so se si riesca a vedere come è all'interno è più tipo non saprei come descriverlo più simile alla carne cioè proprio a livello di texture in bocca queste cose qua no va ovviamente poi tutto insaporito perché il sapone il sapone sì vabbè il sapore rimane comunque quello lì del seitan cioè abbastanza anonimo e inesistente però cambia proprio la consistenza ecco la texture ed è molto più buono ovviamente di quello che si prende al supermercato un po per sopravvivenza un po per disperazione mi accontento anche quello del supermercato però questo è tutto un altro livello voglio provare a fare il brasato con questo seitan qui lo stavo dicendo giusto stamattina a Gabri che volevo ordinare una carne vegana che trovo soltanto online che è veramente buona raga però appunto c'è il discorso di dover ordinare online soltanto per un prodotto e mi sembra un po comunque uno spreco quindi non mi andava eccetera non mi ricordavo che avevo preso questo seitan da coro che sciocca che sbadata quindi assolutamente proverò a fare il brasato con questo qua secondo me esce una cosa interessante vedremo poi cos'altro abbiamo qui direi del sugo che sugo è? ah ok un classicissimo sugo pomodoro e basilico allora anche coi sughi di coro il mio rapporto è cambiato cioè alcuni prodotti di coro prima non mi piacevano e adesso sono tipo obsessed altri invece all'inizio ero mega infissa adesso tipo non lo so non mi convince più boh vabbè ma magari sono pazza io ad esempio appunto i sughi io in passato vi ho parlato benissimo dei sughi pronti di coro che mi piacevano un botto che li trovavo molto più casalinghi come sapore rispetto a quelli del supermercato io fatico veramente tanto ad apprezzare i sughi pronti da supermercato a me piace il sugo fatto in casa e voi direte grazie a chi non piace ok va bene però se in alcuni contesti mi accontento anche di cose pronte sui sughi sono un pochino un po' precisina e con coro mi ero trovata da dio poi fanno questi barattoloni comunque belli consistenti non so improvvisamente hanno smesso di piacermi non so perché raga ma sono rimasti uguali loro sono io che non lo so mi è scattuto qualcosa nel cervello tranne questo qui al pomodoro e basilico che cioè non è che è rimasto uguale anche con questo c'è qualcosa che non lo so non mi convince più come prima però è molto più non lo so versatile mi torna molto utile posso correggerlo più facilmente rispetto ad altri sughi e quindi alla fine mi trovo a prenderlo spesso perché è molto comodo e me la gioco bene insomma parlo soltanto dei sughi al pomodoro quindi pomodoro e basilico pomodoro e melanzane pomodoro e funghi eccetera eccetera mentre i pesti quelli secondo me rimangono veramente mega 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 buoni forse ho un po' esagerato perché anche di quelli avevo fatto un consumo esagerato evidentemente il problema forse è quello ops comunque vabbè sugo pomodoro e basilico poi abbiamo un altro barattolo che spero sia il brodo io mi auguro di aver preso il brodo perché altrimenti inizio a urlare contro me stessa dimmi che sei tu è lui signori è lui questo è un brodo spettacolare ma anche questo ve l'ho fatto vedere 600 volte è un brodo adatto per il ramen io in realtà lo utilizzo per tutto cioè anche per farci non lo so il risotto la minestrina queste cose qua però ultimamente mi sto un po' dilettando nei ramen ho fatto una cosina l'altro giorno devastante infatti devo provare a rifarla sperando mi esca uguale perché io faccio sempre le cose a caso e voglio provare a usare questo brodo qui perché qui dentro c'è il miso che cavolo è un ingrediente che io devo reperire assolutamente perché da proprio non so una spinta in più quindi assolutamente questo brodo consigliatissimo abbiamo un altro barattolo che è l'ultimo poi passiamo alle cose un po' più interessanti e questo qui se non sbaglio è un regalo perché a volte coro fa questa cosa che se spendi un tot ti regala un prodotto e per magari un mese due mesi c'è una crema spalmabile poi cambiano il prodotto con qualcos'altro a sto giro abbiamo una cosa che io non avevo mai provato ed è questo un burro d'arachidi al caramello salato non sembra fatto male vabbè io il burro d'arachidi così così veramente lo amo lo preferisco in versione classica soltanto perché lo posso utilizzare anche nelle ricette salate amo il burro d'arachidi nelle ricette salate raga lo amo spoiler fa parte del mio ramen tra l'altro uno degli ingredienti mentre quelli dolci ovviamente posso soltanto utilizzarli in cose dolci però comunque molto curioso di provare anche questa versione qui che essendo il caramello salato ho un po' paura che possa stomacarmi un po' però vedremo io mi fido di coro ciecamente di solito non mi delude il 99% delle volte quindi vedremo vedremo non potrò provarlo subito perché ho 640 burri da finire prima di aprire questo e quindi vabbè tanto ha una scadenza sicuramente lunghissima quando scade nel 2026 abbiamo tempo abbiamo tempo ok vedo poi dei ravioli che vi devo dire raga sono così sono così con coro non riesco a variare troppo però vi giuro che tra un po' sarò piena di ravioli perché sento che sto raggiungendo il mio limite proprio il limite del stai esagerando ne stai mangiando troppi guarda che poi dopo non li vuoi più vedere e ci siamo ci siamo infatti un segnale di questo limite che sta arrivando è il fatto che io ne abbia comprato solo una confezione mentre la scorsa volta erano tre confezioni e secondo me dalla prossima volta in poi per un bel po' di tempo non li vedremo più perché veramente ho esagerato che vi devo dire però invece che non mi hanno ancora stancato ci sono questi qui che sono questi qua invece versione tortellone anche questi da fare in brodo ecco io ce li voglio in brodo capite questi qua di condirli in altri modi non mi interessa non me ne frega niente in brodo mamma mia per me è una gioia quindi ho preso questi qua che sono quelli con un ripiero di tofu c'è anche la versione piccante però preferisco questa qui ora mancano due prodotti tra cui quello che mi entusiasma più di tutti lo lasciamo per ultimo ho preso cosa che spero non stia perdendo comunque ho preso questo che mi serviva tantissimo il lievito alimentare l'avevo finito e voi sapete bene che un vegano non può vivere più di due giorni senza il lievito alimentare quindi per fortuna l'ho ordinato giusto in tempo perché l'ho finito due giorni fa almeno ho fatto soltanto due giorni senza e raga che vi devo dire il lievito alimentare in scaglie è la rivoluzione la svolta l'amore della mia vita lo utilizzo tantissimo da senso ai piatti se non l'avete mai provato provatelo non sa di formaggio però da quella cosa in più da quel sapore in più con la spinta che serve ogni tanto io sinceramente dalla prima volta che l'ho provato non ho mai smesso utilizzarlo non so se ho già provato questo di coro sapete o se è la prima volta che lo prendo non ricordo chi lo sa vabbè comunque di solito tutti quelli che provo mi piacciono arriviamo finalmente al famigerato ultimo prodotto che vi accennai all'inizio e raga è questa cosa qui si chiama veta è questa questa cosa questa polverina ed è praticamente un preparato per fare in casa la feta vegetale mamma mia mi parete che si chiama veta avete capito no feta veta veta vegetale vabbè inizialmente io questo non lo volevo prendere perché la feta feta proprio quella di origine animale a me piace l'ho sempre mangiata buonissimo ok quindi quando poi avevo trovato le varie versioni vegetali ero sempre mega presa bene le assaggiavo e non mi piacevano mai io non sono ancora riuscita a trovare una feta vegetale che mi piaccia tutti consigliano quella di Lidl a me raga non piace quella di Lidl e quindi sinceramente quando ho visto questo prodotto ho detto no grazie perché veramente non ho più voglia di starvi a cercare vabbè non importa posso sopravvivere anche senza feta vegetale allora voi direte perché alla fine l'hai presa perché ho visto un video di Alice Pizza Caju che la provava e lei diceva in quel video che più che feta le ricordava uno stracchino e allora gli ho detto fermi tutti fermi tutti perché se tu mi fai un preparato per fare un formaggio che sembra anche solo vagamente uno stracchino io volo perché sinceramente tra la feta e lo stracchino per me vince lo stracchino proprio a mani basse era uno dei miei comfort food in assoluto e quindi mi ha convinto praticamente col suo video a provarla vedremo raga non voglio comunque illudermi troppo il problema della feta è che secondo me c'è della feta vegetale che sa sempre troppo di cocco qui c'è il cocco degli ingredienti o meglio l'olio grasso di cocco scusate c'è proprio scritto preparazione di alimenti vegani a base di grasso di cocco vedremo ripeto zero illusioni mi auguro esca qualcosa che mi piaccia la consistenza effettivamente sembra quella di uno stracchino non quella della feta e ci spero sinceramente ci spero che sappia di stracchino se sa di feta lo regalerò a qualcuno perché probabilmente non mi piacerà ok raga quindi questo era tutto qua c'è sconto strega coro sempre attivo su coro per qualsiasi cosa anche sui calendari dell'avvento mi raccomando occhio che ci sono due versioni quella vegana e quella non vegana quindi se siete vegani o comunque volete prendere quella vegana controllate bene che siete quest'anno quella vegana e non quella non vegana direi che possiamo salutarci scegliamo un hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti e l'hashtag della fine potrebbe essere così facciamo hashtag venita dai io sono entusiasta per sto prodotto voi no ditemi un po cosa ne pensate ah e se l'avete già provato ecco datemi dei feedback però intanto hashtag veta scrivetelo qui sotto nei commenti io vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social così se vi va potete seguirmi anche lì vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao